Un pomeriggio di formazione e operatività con Daniela Turri e Filippo Ramigni. Protagoniste, la teoria delle onde di Elliot, le applicazioni dell'analisi tecnica e ovviamente l'operatività con le piattaforme di trading Sfera, Scalp Tool e MTS Plus. Non perdere l'appuntamento di venerdì 15 novembre presso la Fornace Morandi di Padova. Per informazioni compila il form in fondo alla pagina. Ti aspettiamo!